ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale nella puntata di oggi ho deciso viste le temperature e la stagione ideale di parlarvi dei rettili che amo in assoluto di più cioè i serpenti mi trovo infatti lungo un crinale montano sopra una strada sterrata che divide due ambienti i prati alla mia sinistra e le foreste alla mia destra e proprio in questa zona di transizione chiamata tecnicamente ecotono andremo a cercare i nostri amici serpenti nascosti magari sotto qualche sasso o in un arbusto intenti a termoregolarsi prima però di iniziare volevo ringraziare tutti gli iscritti o coloro che lo faranno cliccando sul pulsante iscriviti presente al di sotto del video grazie davvero ma ora non perdiamo altro tempo seguitemi caspita fa davvero caldo come potete notare il cielo è in gran parte velato e tutte queste nuvole stanno formando una grossa cappa di afa ho iniziato a camminare da pochi minuti ma già sono completamente sudato e il sole che tra l'altro filtra quindi sta contribuendo ancora di più a peggiorare la mia situazione però è una giornata ideale per trovare i rettili allora volevo scendere a visitare questa piccola pozza perché oltre a avere sentito il pluff classico di una rana vedo sul fango che vi è una bella impronta che credo proprio appartenga a un bel predatore vediamo un po' eh sì guardate che bello questo è molto probabilmente un lupo anche se ovviamente non si ha mai la certezza con le singole impronte che è venuto ad abbeverarsi qui ci sono le altre e vediamo che è venuto a bere proprio in questa pozza pozza che dall'altro è piena di girini di rana verde che belli e quanti e ovviamente sulla superficie di questa pozza d'acqua non potevano mancare i gerridi questi insetti pattinatori che sfruttano la tensione superficiale dell'acqua per potervi pattinare sopra i gerridi poi sono degli ottimi spazzini poiché qualsiasi cosa cada sulla superficie se lo divorano ed ecco la mamma rana non so se la vedete nel mezzo della pozza che è uscita a controllarmi mi sta guardando con molta attenzione circa quattro metri da me a solo due oltre a quella del centro della pozza venne un'altra in mezzo ai fili d'erba la vedete come detto questa stagione è ottima per vedere i serpenti solitamente fine maggio inizio giugno dalle mie parti coincidono con avvistamenti continui di saettoni proprio nei giorni scorsi ho avuto l'opportunità di rivedere un enorme femmina di saettone che vive all'interno di una foresta secolare nei pressi di un rifugio nascosta sotto alla legnaia pensate che questo individuo è lungo all'incirca un metro ottanta una misura veramente incredibile non a caso la specie si chiama zamenis longissimus sa di fatto che questi animali sono degli eccezionali arrampicatori e possono a volte salire con enorme facilità sugli alberi per cacciare ad esempio pulli o addirittura mangiare direttamente le uova degli uccelli ed è proprio sotto a questa quercia che se io fossi un serpente verrei a vivere poiché vi sono vedete questo ammasso di pietre che permettono animali di nascondersi all'interno dei loro anfratti ma anche di sfruttare il calore sulla loro superficie vi sono questi diversi arbusti che li proteggono da eventuali predatori e ci troviamo sempre lungo una linea di confine lungo la quale si trovano le loro prede quali ad esempio appunto ramarri o lucertoli quindi un luogo a dir poco ottimale no eccolo finalmente sono riuscito a beccarlo in termoregolazione un biacco guardate è un miracolo che non stia fuggendo all'impazzata sono animali di una agilità inaudita difficilissimo riprenderli ah ma ecco il motivo spettacolo vedete che ha una patina blu sull'occhio vuol dire che sta facendo la muta e quindi in questo momento ci vede molto male caspita che meraviglia il biacco è in assoluto una vera e propria macchina da guerra il serpente probabilmente con le caratteristiche fisiche più idonee per vivere in ogni ambiente da noi in italia infatti lo si trova dai centri città fino alla montagna pensate che sono animali talmente agili che una volta ho visto un biacco arrampicarsi su una quercia verticale il cui un cappiglio era praticamente una pianta d'edra che ha vinghiato attorno alla quercia stessa e il biacco come se avesse preso una scala è arrivato in pochi secondi sulla cima dell'albero una cosa veramente incredibile una delle scene più assurde che abbia visto legato a questa specie pensate che sono animali cannibali ma non solo di varie specie di serpenti ma di altri biacchi stessi una volta ho visto un biacco adulto nutrirsi di un altro esemplare poco più piccolo di lui una sorta di matrioska non si capiva dove iniziasse uno finisse l'altro poiché ovviamente vi erano due code alle estremità ed era una cosa piuttosto buffa da vedere da lontano pensate che dalle mie parti vi è la diceria che quest'animale frusti con la coda in realtà non è assolutamente così semplicemente quando viene maneggiato lui cerca in tutti i modi di vincolarsi dalla presa e oltre che rotteare vorticosamente su se stesso muove tutto il corpo in maniera determinata e così facendo la coda accidentalmente ovviamente ci può colpire visto che ci siamo sfatiamo anche un mito una diceria popolare che nel nostro paese è legata ai serpenti cioè che siano aggressivi in realtà sono animali tendenzialmente molto tranquilli non a caso se sono ben riscaldati se hanno compiuto a dovere la termoregolazione e quindi sono abili nel muoversi e spostarsi agilmente la prima cosa che gli viene in mente di fare è quella di fuggire nel caso in cui siano invece a volte ancora freddi o comunque non vedano bene che hanno davanti beh in quel caso possono mettersi sulla difensiva e soffiare per avvisare della loro presenza molti infatti scambiano il soffio come un tentativo di aggressività quando in realtà è un guarda sono qui allontanati ti ho visto forse tu non l'hai fatto quindi stai attento perché ci sono quindi come ho già detto in altri video sono addirittura gentili ci avvisano pure nel caso in cui invece questo non basti e magari li pestiamo perché appunto non ci accorgiamo della loro presenza oppure li manipoliamo in maniera incauta e si mordono per difesa pensate ad esempio che le vipere sono fra gli animali meno mordaci questo ovviamente non vuol dire che vadano manipolate ma i ricercatori che le studiano mi hanno confermato più volte che è raro prendere il morso di una vipera anche se questa viene manipolata ci sono serpenti sì che invece una volta presi in mano possono essere più aggressivi come ad esempio il biacco che tendenzialmente tenta di riempirvi di morsi finché non lo lasciate andare come è normale che sia altri come il settone solitamente danno uno o due morsi oppure altre specie che ad esempio non mordono praticamente mai come le natrici dal collare o le natrici tessellate quindi nel caso in cui incontrate un serpente e semplicemente non volete avere nulla a che fare con lui è inutile che gridiate visto che sono praticamente sordi quindi non vi sentono limitatevi a agitarvi con le mani con il corpo fatevi vedere sbattete casomai a terra i piedi visto che percepiscono molto bene le vibrazioni e vedrete che lui si allontanerà senza problemi nel caso in cui invece resterà fermo nella sua posizione perché magari è ancora freddo e non ha fatto bene la termoregolazione oppure perché non ha capito fino in fondo cosa siete beh semplicemente aggiratelo e vedrete che non vi seguirà non tenterà di saltarvi addosso come vi ha raccontato invece nelle storie un altro arbusto che può aiutare a proteggere o permettere di salirvi sopra ai nostri amici serpenti la rosa carina guardate in questo momento in fiore con le frescenze di colore rosato anche questi sassi non sono affatto male poiché si trovano sempre lungo il nostro ecotono e poi come vedete che raccolgono sia la mattina all'alba quando il sole arriva alla loro sinistra che adesso verso il tramonto quando il sole arriva alla loro destra proprio la luce e quindi sono sicuramente belli caldi quindi un buon posto dove nascondersi al di sotto che bella questa strada ora ci sono sia querce che a destra e sinistra abbiamo anche dei carpini degli olmi quindi vi è un po più di biodiversità arborea anche i muretti a secco come questo sono un luogo perfetto per un serpente poiché è ricchissimo di anfratti all'interno del quale potersi nascondere o muoversi con agilità inoltre i muretti a secco prendono tantissimo calore durante la giornata quindi cosa c'è di meglio e proprio sopra la muretta a secco ecco un altro rettile non è un serpente ma è l'orbettino uscito per prendersi gli ultimi raggi di sole della giornata guardate come sta andando pianissimo che animale fantastico che l'orbettino molti lo scambiano per un serpente ma in realtà è un anguide facente parte di una famiglia a sé stante infatti non è una lucertola non è un serpente è proprio un anguide dalle mie parti si crede che quest'animale sia cieco probabilmente dal fatto che la parola orbettino ricordi la parola orbo e quindi una persona che non vede ma in realtà non è così se vedete bene ha delle enormi pupille e ci vede ci vede come gli orbettini sono degli eccezionali predatori nonostante il loro aspetto innocuo sono in grado di catturare addirittura giovani serpenti soprattutto lucertole o ramarri ma nel caso in cui non trovi null'altro non disdegna ad esempio animali quali lombrichi oppure lumache quindi è un buon gustaio per noi ovviamente è del tutto innocuo il suo nome invece originario prima diciamo della scissione delle due specie anguis fragilis significa proprio anguilla fragile poiché anche lui così come le lucertole può perdere la coda e pensate un po costituisce circa la metà del corpo dell'animale stesso una cosa su cui bisogna fare chiarezza in generale sui serpenti è che in realtà non sono in grado di scavare buchi all'interno del terreno molto spesso infatti lungo le scarpate o i sentieri si intravedono dei fori e spesso viene detto che siano stati fatti proprio dai serpenti ma non è così questi ultimi infatti non fanno altro che sfruttare queste gallerie create in precedenza o da topi o da ardicole per infilarci sì dentro magari per sfuggire le ore piccate della giornata per andarsi a riposare durante la notte o se sono fortunate cacciare proprio uno di questi micromammiferi su questo filo spinato vi è tantissima vita alba che si sta sviluppando e si sta attorcigliando torno ad esso un po come fanno lungo i tronchi degli alberi pensate che le punte di questa pianta arrampicatrice sono buonissime ad esempio io le raccolgo e poi le faccio assieme alla frittata qui la vegetazione erbacea e le felci hanno ormai del tutto mangiato il sentiero questo non mi fa troppo felice in questo momento perché essendo zone di campagna ricchissime di ungulati vuol dire che lungo questi steli d'erba sicuramente ci saranno tante zecche pronte ad attaccarsi ai miei peli pensate che il mio record personale proprio nel mese di giugno di qualche anno fa fu 33 prese nel giro tra l'altro di soli 7 chilometri mentre andavo alla ricerca dei daini wow un altro habitat perfetto qui vi sono tantissime rose canine anche se in fiore l'una attaccata all'altra e creano una sorta di infinito corridoio sotto il quale questi animali possono spostarsi direi che è quasi impossibile riuscire a trovare in serpente in quel groviglio di rami la mia speranza è quella di trovarli lungo il sentiero come è successo prima per il biacqua ad esempio ucci ucci sento d'or di serpentucci anche qui qual perfezione vitalbe rosa canina sopra massi esposti al sole tutto il giorno visto che il sole sorge da quella montagna e compie questo tragitto in questa fase dell'anno quindi è sempre assolato wow chissà cosa c'è di sotto wow che profumo le ginestre uno dei motivi per cui adoro la fine della primavera e l'inizio dell'estate è anche questa sentire nell'area il profumo intensissimo dei fiori di ginestra che è uno di quegli odori che a me ricordano l'infanzia visto che da bambino mi infilavo per giocarci al loro interno un ottimo luogo dove nascondersi quando si gioca a nascondino che belle oh ed ecco l'immancabile escremento di volpe con dei noccioli di ciliegia visto che infatti sono da poco maturate e subito la nostra amica dal pelo rossiccio ne ha approfittato come vedete mi trovo in un habitat più che perfetto per i nostri amici striscianti poiché sotto di me vi è questa strada di rocce che si può scaldare facilmente soprattutto nelle ore crepuscolari sulla quale poter scendere magari dagli arbusti e fare termoregolazione alla mia destra proprio al confine col bosco vi è un ginepro che è una pianta idonea per i serpenti poiché su di essa riescono a rampicarsi essendo che i rami sono molto fitti è super pungente quindi possono essere protetti da eventuali predatori e sotto di esso si possono trovare le prede come ad esempio i ramarri o le lucertole lungo queste zone di confine oltre i rettili si muovono altre prede quali i micromammiferi e poi vi sono piante come queste carpino o le giovani querce che abbiamo visto finora che sono un luogo ideale sotto il quale anch'esso nascondersi o per sfuggire in realtà magari l'eccessiva calura nel momento in cui il sole si trova proprio sopra nostra testa e fa troppo caldo anche per i serpenti stessi quindi cosa volere di più voglio andare qui sul crinale poiché inizia una zona di rocce esposte proprio al sole che vedete sta tramontando proprio di fronte a me eccole qua quindi un ambiente secchissimo e super esposto vedete questa è la zona più secca in assoluto poiché il sole vi batte tutto il giorno ed è ovviamente esposto anche all'erosione continua del vento ci sono le alternanze di rocce di marina arenaria proprio qui di fronte a me bene in vista e sono sicuro che qui possiamo trovare qualche animale interessante visto che il sole sta tramontando e l'ora è perfetta di davanti vedo un accumulo di rocce sotto un arbusto quindi vediamo no ma che meraviglia ma è una coronella austriaca guardate che spettacolo è un serpente piccolissimo questo esemplare non sarà più grande di 40 centimetri si è messa ad esse in una sorta di posa difensiva anche schiacciato la testa in questo modo assomiglia anche più a una vipera ma in realtà è un serpente completamente innocuo e si vede bene dalle squame sul capo che sono poche grandi che è un serpente non velenoso visto che da noi in italia vi è questa semplice regola per poterlo distinguere ad esempio dalla vipera comune che ne ha tante e piccole ah guardate è in muta poiché si vede che ha l'occhio leggermente velato e inoltre le squame sulla punta della testa sono pronte ad aprirsi in questa fase non vedendo bene tendono a essere più aggressivi del solito e a volte provano a dare dei morsi a caso per difendersi da un eventuale aggressore fra qualche giorno probabilmente si rintanerà sotto ad una roccia per completare del tutto la muta che bello pensate che questo serpente si nutre di altri rettili infatti va ghiotto di lucertole e addirittura ci sono segnalazioni di attacchi persino a piccole vipere inoltre come state vedendo adesso è un animale crepuscolare infatti è difficile vederla in pieno giorno solitamente si vede al crepuscolo mentre fuoriesce per termoregolarsi o addirittura se fa molto caldo la si può incontrare lungo i sentieri persino di notte ok grazie mille direi che la possiamo lasciare andare che spettacolo un altro da aggiungere alla lista di oggi beh che dire non potevo sperare di meglio oggi è una giornata veramente incredibile quindi spero che anche voi vi siate divertiti come me in questa ricerca grazie a tutti gli iscritti o coloro che lo faranno cliccando sul pulsante iscriviti grazie davvero noi ci vediamo alla prossima non mancate ciao a tutti e beh ciao a tutti